pensi che si può perdonare un tradimento di un anno ma nemmeno di un giorno sorella perché non rispondi su ista non guardo quasi mai silvia jean il jeans celeste nelle tue storie l'evidenza amo quale ce ne sono un po che superiore hai fatto quanto è uscita la maturità ha fatto grafica e comunicazione e sono uscita con 82 il tradimento di un anno è che teneva non solo quello lungo dove ha il top nero amo che mi vuoi far ricordare ma è cargo hai letto il commento di leo si ho letto che se ne torna ci fa vedere l'outfit ragazzi sono andata a fare la spisa c'avevo questo jeans e quella maglia che ho fatto il tiktok e niente questo è il mio pigiama leo che dici non è cargo è dritto normale ma questo qua che tengo addosso vabbè ma non ci fare caso non ce l'ho così perché non mi va questo è di zara però l'ho comprato tipo cinque anni fa hai il filler? no domanda più gettonata del mio profilo no non ce l'ho ma si vede raga che non ce l'ho cioè si vede che non lo tengo non lo so amo perché faccio questo colore letteralmente da penso 8 9 anni quindi non lo so non ti so consigliare i tatuaggi amo ti posso far vedere quelli che posso mostrare perché gli altri non li posso far vedere perché sono in punti un po' intimi quindi vabbè questo 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 qua si vede mo questo cuoricino che mi sono fatta i bit uno sull'inguine uno sul piede chissà noi ci siamo conosciuti su tik tok ci piacerebbe vederli tutti non parlo ma comunico lo stesso fai entrare qualcuno raga e chi faccio entrare? che fa? mi devo mettere in mutande? no no non si vede niente ho qualcuno vicino che si è visto tutto leo ma vorresti entrare un pochettino che qua ti vogliono da quante che lo conosco? penso marzo si amo sono anni che le faccio ho il telefono scarico e ma tutto è sempre no raga leo non entra amuti nei raggi x perché in severenia è andata solo grazie amore che bei complimenti che mi fate qua sotto cosa faccio oggi? non lo so vorrei andare un po' da zara onestamente però non voglio comprare cose estive però per una parte le devo comprare ce le dovrei comprare per forza per partire perché dove vado fa molto caldo quindi però non vorrei spendere tanti soldi per un paio di giorni che per una settimana che devo stare là che poi dopo tra virgolette viene l'autunno quindi non lo so non lo so non lo so non è che non c'ho niente ce li ho i vestiti quindi non devo comprare solo qualche bel vestito da sera prendi su scena no raga i vestiti di scena non mi piacciono cioè la qualità che non mi piace parte il fatto che non lo so perché ma mi danno il prurito vi dico la verità e poi non mi piace come vestono nel senso mi piace come vestono addosso agli altri oppure dal sito poi addosso a me no quindi no a chi devo fare entrare? e no perciò non compro la eh no infatti ma io non sto capendo niente raga ciao pa che amore dove sei? raga ma lasciatelo stare eh però non vorrei comprare tante cose che poi mi devo mettere l'anno prossimo capito? cioè vorrei più comprare cose per l'autunno no no Benny no perché non voglio avere a che fare con l'essere maschile grazie non sei bella si raga poi vi faccio vedere chi compra la zama sempre se trovo qualcosa ho paura di questa gente che mi scrive queste cose ma dico io lo sapete che questo è tiktok? dico alcuni di voi ci sono arrivati che questo è tiktok? non so se esistono altri siti dove fanno live un po' più spinte ma questo è tiktok su facebook si raga